Bentornato a Erdi Scrai e bentornato con una prestazione importantissima. Sì, innanzitutto voglio ringraziare tutto lo staff medico, la società e tutte le persone che mi sono state vicine perché comunque è vero che è stato solo un mese, tra virgolette, però per me non sono abituato a stare fermo lontano dal campo per così tanto tempo e quindi sono contento di essere rientrato e anche per la vittoria. Da mezz'ala ti ha impiegato Zeman e l'ha interpretato benissimo il ruolo. Sì, ho cercato di entrare un po' nei meccanismi della squadra perché comunque sono rientrato da poco ancora non devo capire bene cosa vuole il mister, cosa vuole la squadra, però ecco ho fatto il mio adesso rivedrò anche io la partita per vedere un attimo cosa c'è da migliorare, però bene così. In questi due giorni ti ha provato solo come mezz'ala o anche come play insieme con Palmiero, alternativa a Palmiero? Un po' tutti e due, devo essere sincero, un po' play, un po' mezz'ala. Adesso Catanzaro che oggi ha festeggiato. Sarà grande festa domenica prossima? Sì, sarà grande festa, speriamo di coglierli un po' sotto i festeggiamenti e rubare qualche punto. Polpaccio come sta? Sta a posto? Bene, bene, sì.